ciao a tutti oggi prepareremo la pasta cremosa al salmone spumante il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa ingredienti sono pasta corta besciamella salmone affumicato spumante olio evo aglio prezzemolo sale e pepe diamo il via la ricetta per prima cosa a cuocere la pasta in abbondante acqua salata mettere nel boccale l'olio e l'aglio ed azionare il bimbi per 3 minuti 120 gradi velocità 1 togliere l'aglio aggiungere il salmone e facciamo insaporire per un minuto 100 gradi anti orario velocità soft aggiungere lo spumante ed azioniamo il bimbi per 3 minuti 100 gradi anti orario velocità soft senza misurino aggiungere la besciamella pepe pepe il prezzemolo e il sale ed azioniamo il bimbi per 3 minuti 100 gradi anti orario velocità soft trasferire in una ciotola capiente scolare la pasta e condirla pasta cremosa al salmone spumante grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti